ok ferma 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 basta facciamo un bel concorso un nuovo abbiamo bisogno di zucchero molto zucchero guardate pronto pronto! eccolo! pronto! wow! vediamo questo cos'è questo? e adesso gara di pittura questo è facile pronto! questo è mio eccellente! brava! e questo è mio! oh sì! concorso di bellezza andiamo! wow! è mio! no è mio! ecco il mio! ora metterò un po' di trucco ok ragazzi siete pronte? pronte! bel lavoro! no 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 no! e ora l'ultimo concorso gara di magia fai la tua magia nastia! wow! wow! tocca a te clava! no 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 no! ecco i risultati! vincitrice l'amicizia! urrà! ok restiamo sempre amiche ok ciao next video chi fa rumore una discoteca vai a casa non puoi uscire in vestaglia capisco ora mi cambio posso entrare? entra! grazie sta addormento cosa posso mettere? wow 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 in discoteca allora posso entrare? eccomi no non è una festa in maschera ma com'è possibile? non puoi passare penso di sapere cosa fare wow 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 Cosa c'è che non va? Questa non è una palla Vai a casa Ok, ok Idea Dove sono tutti? Chi viene alla mia festa? Vogliamo andare Ok ragazze, entrate Discoteca? Sì, una discoteca Posso entrare? No, non puoi passare Perché? Hai le pulci, vai a cambiarti Ok E così ho un regalo per te Oh, è ottimo Apriamo il regalo Entra Wow La la, la na, yeah, yeah La la, yeah, yeah La la, la